Buona giornata amici da Massimo Foghetti, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi iniziamo una settimana particolare, la settimana che ci condurrà verso la Pasqua, la settimana santa, iniziano i riti appunto di una liturgia che è la più importante dell'anno per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, ma intanto vediamo subito chi si festeggia nella giornata di oggi con l'almanacco del giorno. E vediamo che è un santo straniero, un santo inglese, San Riccardo di Chichester che visse nel XIII secolo. Siamo in Inghilterra, fu cancelliere dell'arcivescovo di Canterbury, difese la Chiesa dalle ingerenze delle potere reale. Ci fu sempre un conflitto appunto con l'invadenza del re negli affari della Chiesa. Fu nominato vescovo, visse in santità e in povertà, dato che il re gli aveva privato, gli aveva confiscato tutti i suoi beni. Questo è San Riccardo, San Riccardo di Chichester. Le previsioni del tempo Ecco la grafica, abbiamo una instabilità intermittente, specie tra le prime ore della mattina, la notte insomma il tempo è nuvoloso e poi di nuovo in serata. Le temperature sono in calo rispetto ai giorni scorsi, le minime sono sui 9 gradi, le massime 12 gradi. I venti sulle coste spirano da est e nord est, nell'interno invece da nord est soltanto. E abbiamo un vento piuttosto teso, il mare è molto mosso, insomma il tempo è perturbato. Vedremo poi come si evolverà verso la Pasqua dove le previsioni al momento sono incerte. Non si dice che c'è bel tempo, ma neanche cattivo tempo, quindi staremo a vedere. E allora apriamo il giornale sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Ma abbiamo la notizia che viene evidenziata anche dal resto del Carlino, per quanto è avvenuto ieri dopo la partita di calcio tra l'Alma Juventus e la Vigor Senigallia. Aguato in strada ai tifosi della Vigor. Diciamo subito che il Fano Calcio ha perso il match che si è disputato in casa allo stadio Mancini. E quindi l'animo dei tifosi era piuttosto surriscaldato. Autobloccate e rissa prima del derby. Un gruppo di supporter Granata era in attesa d'altezza dell'albergo Metauro. Scontro nel parcheggio. Non c'è stata una bella accoglienza nemmeno all'inizio da parte dei tifosi, nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Dunque una rissa tra le tifoserie avverse all'ingresso sud di Fano. Ieri, poco prima che iniziasse la partita tra l'Alma e la Vigor Senigallia. Un episodio grave che secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia si configura come un vero e proprio agguato. Quindi una cosa premeditata dobbiamo dire. Che cosa è accaduto? È accaduto che alcune automobili dei tifosi senigalliesi sono state bloccate sulla statale adriatica intorno alle 14.00. nella zona di Ponte Metauro mentre procedevano in carovana verso lo stadio. Prima alcuni colpi alle carrozzerie, poi ne è seguito un parapiglia nell'ampio parcheggio lì vicino che avrebbe coinvolto dalle 20 alle 30 persone. Pensate, pugni, cinghiate, qualche calcione, lunghi istanti fuori controllo. Poi l'intervento tempestivo degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse. Comunque è una situazione sempre molto molto deprecabile perché inquina un mondo di sport che dovrebbe essere così caratterizzato da un tifo, un tifo diciamo così educato, un tifo che pur esprimendo la passione per la propria squadra deve avere il rispetto dell'avversario. E questo non è accaduto. E vediamo anche a fondo pagina un incidente, anzi facciamo una cosa, vediamo subito come il resto del Carlino dà la notizia. Ecco, scusate, non è questo ma è quest'altro. Ecco qua la pagina con cui si evidenzia questo articolo. Derby follia, così viene chiamato. Derby follia lungo la statale, agguato di ultrasfanesi alla vigor, pugni e cinghiate. Paura tra la gente far west nel parcheggio dell'hotel. Siamo nell'hotel vicino al ponte Metauro, quel grande spiazzo dove al solito si fermano i tir. Ebbene, tifosi Granata o forse anche Iesini attendevano quelli di Senigallia. Abbiamo qui delle foto del parapiglia che si è verificato. Vedete, hanno delle cinghie in mano, quasi per scudiciare appunto gli avversari e non solo le carrozzerie. Tra le carrozzerie dei tifosi. Ecco il parapiglia che ieri alle 13, alle 14, è avvenuto tra gli ultras dell'Almafano e tifosi della Vigor che viaggiavano sulla statale 16 verso lo stadio Mancini, scortati dalla polizia. Questo però non ha impedito l'agguato con bastoni all'altezza dell'hotel Metauro. Insomma, veramente una cosa deprecabile. E allora continuiamo la nostra rassegna stampa sul Corriere Adriatico. Vi dicevo che a fondo pagina c'è un articolo che riguarda un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Lucrezia nella giornata di ieri mattina. Auto contro un palazzo, quattro giovani miracolati. Hanno fatto tutto da soli, anzi ha fatto tutto da solo l'autista di questa Opel Corsa che si è schiantata nei confronti, su un muro, su un muro di una abitazione e il ragazzo ha perso il controllo dell'auto e quindi è uscito di strada. Paura e danni per l'incidente stradale che ieri mattina ha tirato giù dal letto diversi residenti di Lucrezia a causa del botto provocato dall'Opel Corsa che si è schiantata contro un palazzo. Quattro erano giovani all'interno dell'abitacolo. Venivano dalla discoteca Verve, tra cui anche un minorenne. Ebbene, hanno riportato per fortuna soltanto uno shock. Sì, qualche ferita, qualche contusione. Tre di loro sono stati ricoverati al pronto soccorso, ma sembra che non ci sia nulla, nulla di grave. E per quanto riguarda il botto che si è verificato, è stata danneggiata anche una colonnina del gas. Ecco perché sono intervenuti anche i vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza. Intorno alle 7.30 il 35enne fanese, che era la guida, ha perso il controllo. Quindi probabilmente gli effetti di una notte che è stata vivace. Quindi la stanchezza forse ha prevalso. La seconda apertura del Corriere Adriatico è dedicata ad un fenomeno che coinvolge le palme. Ci sono tante palme nel nostro territorio, soprattutto davanti alle case in stile Liberty. Sono un segno di riconoscimento di questo modulo urbanistico, di questo modulo architettonico che ha reso più bella la città nella prima parte del secolo scorso. Ville Liberty con le palme davanti. Però queste palme tuttora sono a rischio. Lo evidenziano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, che hanno spinto l'amministrazione comunale a fare qualcosa per evitare che un insetto, il punteruolo rosso, decreti la morte di tutti questi alberi che sono belli, che qualificano l'arredo della città. La stessa cosa ha fatto il consigliere del Partito Democratico, il consigliere regionale del Partito Democratico, Andrea Biancani, nei confronti della giunta a Quaroli. Sensibilizzazione perché poi si invitano i proprietari ad assumere i dovuti correttivi, ma anche fare qualcosa per indenizzare coloro che poi riceveranno o hanno avuto dei danni. Parassita minacce per le palme. E poi a fondo pagina un articolo di cronaca indignati dalle scritte sul monumento ai caduti. E' sempre Fratelli d'Italia che insorge per quanto riguarda le scritte vandaliche che sono state tracciate nel monumento dei caduti di Viale Buozzi a Fano. Sono scritte pesanti, ci sono dei disegni osceni, ci sono delle bestemmie, ci sono delle scritte senza senso, evidentemente appartenenti a dei giovani, a dei giovani maleducati, a dei giovani trasgressivi che non hanno capito il valore di quel luogo, di quel monumento, che ricorda giovani come loro, giovani come loro che sono caduti durante la guerra, specialmente del 15-18, quindi giovani diciottenni che sono stati mandati al fronte e hanno perso la vita. Quindi quelle scritte sono veramente una... così... lasciamo perdere. Allora, passiamo invece al Val Cesano, dove vediamo che si parla di una bella iniziativa di carattere sportivo in occasione della giornata dedicata all'autismo. Bel tempo, sport e solidarietà in 500 alla corsa di Onfalos. Record di partecipanti a Mondolfo, mezza maratona, gare podistiche e camminata. Ebbene, quando si unisce sport e solidarietà, si fa veramente una bella manifestazione. Ebbene, sport e solidarietà si sono uniti per celebrare ieri la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. 500, 500 tra atleti, appassionati, famiglie, hanno partecipato ieri mattina alla quinta edizione della manifestazione podistica Onfalos Half Marathon, cioè una mezza maratona curata dall'Associazione Onfalos Autismo e Famiglie nella splendida cornice di Mondolfo e Marotta. E poi sono svolte anche altre iniziative, sempre collegate a questa. In contemporanea, infatti, si sono svolte una prova competitiva, omologata dalla Fidal, sulla distanza della mezza maratona 21-097, poi una gara sempre competitiva di 10 chilometri, denominata Avis 10, una corsa amatoriale su una distanza analoga e una camminata naturalistica. Quindi ce n'era veramente per tutte le possibilità, per tutte le età e per tutti i gradi di allenamento, una passeggiata, una corsa e una maratona, una corsa più impegnativa, mezza maratona. Ed ora guardate questa fotografia. Quando si parla di piccioni che così volano sulle nostre case, ebbene quello che si trova a San Costanzo veramente è una cosa indescrivibile. Lo si immagina anzi da questa fotografia. Guano sui marciapiedi. Ma quanto guano? Guardate qui che mucchi di guano ci sono in questo marciapiede su cui dovrebbero passare le persone. La rabbia dei negozianti. Il titolare di una panetteria segnala la sporcizia in corso Matteotti. Sporcizia e guano dei piccioni sul marciapiede. Scoppiano veramente le proteste tra gli esercenti del centro storico di San Costanzo. E sarebbe veramente ora di correre ai ripari. Siamo a Senigallia. Siamo a Senigallia e parliamo di mala sanità. Prenota al CUP un'ecografia alla mano. Ebbene gli rispondono c'è posto ad agosto 2024. Ma non qui, non a Senigallia. Deve andare a Sant'Elpidio a mare per farsi questo esame. Ma sarà possibile. E poi ci sono anche altri problemi che vengono messi in evidenza. Ebbene uno dei traguardi più importanti del nuovo piano sanitario regionale dovrebbe essere quello di ridurre i tempi di attesa. Però insomma, fino a quando questo piano non venga, non dico non venga approvato, ma non venga poi messo in esecuzione, non si può restare inerti. Qualche cosa bisogna pur fare per ridurre questi esami, i tempi di questi esami. Al momento comunque la situazione rimane sempre la stessa. Quella che era tanto tempo fa continua a restare anche oggi. In questo caso una professoressa si è infortunata a una mano. Ebbene ha chiesto di prenotare un'ecografia. E si è sentita rispondere che la prima data disponibile è il 21 agosto del 2024 all'ospedale Il Santo Elpidio a Mare. Pensava che fosse un pesce d'aprile, invece era tutto vero. Insegnante in credola ha scritto all'assessore alla sanità della regione Marche, Filippo Saltamartini, ha scritto ai vertici dell'azienda sanitaria territoriale di Ancona, di cui Senigallia fa parte, per chiedere spiegazioni. Ma non so se queste spiegazioni poi sono arrivate. Poi ci sono tanti altri piccoli problemi all'ospedale di Senigallia da risolvere. Per esempio il fatto che il bar sia chiuso il sabato pomeriggio, la domenica, quando c'è più afflusso dei parenti, che insomma essendo il giorno semifestivo, il sabato è festivo, la domenica, hanno più tempo per visitare appunto gli ammalati. E avere un servizio chiuso come quello del bar non è certo una cosa molto gradevole. E poi ci sono problemi ai distributori di caffè, di merendine, eccetera, che sono lontani, sono scarsi e costano di più rispetto ad altri ospedali. Ubriachi alla guida scattano due denunce. Insomma il sabato sera, ultimo scorso, ha fatto veramente dei danni. Ubriachi alla guida scattano due denunce. Polizia locale e i carabinieri hanno ritirato cinque patenti nei controlli del weekend. Ebbene bisogna fare un monumento a questi poliziotti che tutte le festività sono sulla strada per cercare di garantire un minimo di sicurezza. Continuiamo a sfogliare il giornale guardando le pagine dello sport. Vediamo come l'ennesimo risultato negativo per la vis Pesaro ha prodotto questa volta l'esonero del suo allenatore. La vis ha esanorato e ha esanorato brevi. Il K.O. di Gubbio senza lottare. E i play-out ormai sicuri hanno provocato l'allontanamento del mister. Tanti i nomi sui quali la società sta riflettendo anche se il ritorno di Sassarini sembra escluso. Quindi occorre ora individuare il sostituto dell'allenatore. Bisogna farlo in fretta poi perché le ultime partite sono quelle decisive. Vediamo invece quello che è accaduto a Fano. Non abbiamo visto insomma quello che è accaduto fuori dello stadio. Ora diamo un'occhiata a quello che è avvenuto dentro lo stadio. La Vigor vola anche a Fano. Il risultato della partita è Fano 0, Vigor 1. La centesima rete in rosso-blu di Pesaresi. Pesaresi è il giocatore del Senigallia. Decide il duello numero 42 in campionato con l'Alma. La Clementi Band rafforza il secondo posto. I Granata, nonostante il KO, però restano in zona play-off. Nella quinta posizione della classifica. Ebbene, dice il tecnico dei Granata, mancato il salto di qualità. Il tecnico del Fano ha mareggiato per un KO che era evitabile. Mi dispiace anche per la nostra gente, ha dichiarato. Dopo il loro gol non abbiamo reagito nel modo che mi aspettavo. Ed è un vero peccato. Invece Clementi esulta. Dice, sono contento per la squadra e per i nostri tifosi. In questo caso non si accenna a quanto è avvenuto fuori dello stadio. Il tecnico della Vigor, Clementi, sempre misurato anche nella vittoria, partita equilibrata, ha detto, è decisa da un episodio. Pesaresi si meritava questa gioia, si meritava appunto il gol che lui stesso ha segnato. Vediamo, scorriamo ancora le pagine dello sport rapidamente e vediamo le altre partite. Vediamo il Fossombrone che riparte, Maceratese-Soccombe, KO e Salvezza. Fossombrone 2, Maceratese 0. La vicecapolista resta a meno uno dalla vetta, rata al sicuro, grazie alla classifica avulsa. Questo è per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Invece per la promozione vediamo quattro partite. Ecco qua i risultati. Montecchio 1, Portuali-Ancona 0, Biaggio-Nazzaro 2, Fermignanese 0, Gabice-Gradara 2, Barbara 1, Cagliese 0, Valfoglia 1. Ci sono state diverse vittorie fuori casa. Vediamo ancora le partite del basket. La VL si infrange sul muro di Trento. Il risultato non desta commenti. Purtroppo Pesaro 70-30-84. La sconfitta spinge la Carpegna Prosciutto ai margini della zona play-off. Chiedo scusa ai tifosi e il commento di Repesa per quanto riguarda questa debacle. Invece pur combattuta ha ottenuto un'altra vittoria nella gara contro il Monselice, la Vigilar. La Vigilar si tiene il primato. Rimane saldamente in testa alla classifica del campionato di volley a tre maschile, girone bianco. Ed ora dovrà confrontarsi con le prime degli altri gironi per salire appunto di campionato. Vince al tie-break in casa del Monselice. Sabato prossimo si gioca la Supercoppa contro il Pineto. E dal 16 aprile via alla finale per la promozione in Serie A2 contro l'Ortona, al meglio delle tre partite. Insomma, sarà veramente un piccolo campionato da seguire con il fiato sospeso. La Megabox e la Megaboss con un grande rammarico. Tante le situazioni da gestire meglio. Le Tigri pesaresi erano partite alla grande, poi è venuto fuori il Novara. E purtroppo sabato sera la partita si è conclusa con un risultato negativo da 1 a 3 contro il Novara. Ebbè, non c'è stato nulla da fare. Questo è un po' per quanto riguarda lo sport. Ora diamo un'occhiata anche a qualche notizia che ci viene dalle Marche, ma anche da Pesaro. Vediamo come in previsione dell'inizio della stagione balneare i concessionari di spiaggia sono saliti sulle barricate per difendersi contro la Bolkestein, questa direttiva europea che impone di mettere tutto in gara e quindi di rifare i conti con i vari concorrenti alle concessioni balneari. Insomma, c'è maretta, anzi direi tempesta. Per quanto riguarda Pesaro, invece, vediamo che si parla dell'arredo di quella zona turistica che è Baia Flaminia. Tavolini e parcheggi, Baia Flaminia rischia una doppia anarchia. Il Comune vuole riorganizzare l'assetto dei Deors in vista della stagione buona. Il quartiere chiede dissuasori contro gli ingressi selvaggi in piazzale Europa. E qui c'è sempre un piccolo contrasto tra i residenti e gli operatori. Gli operatori che vorrebbero sempre maggiore affluenza e quindi anche le infrastrutture dovrebbero accogliere del più possibile degli avventori in questa zona di carattere turistico, mentre i residenti vorrebbero certamente più tranquillità, più ordine e più sicurezza. Comunque il Comune cerca di equilibrare le due istanze. Meno alto e attenti ai rifiuti, il vademecum della vivibilità. L'iniziativa dell'amministrazione comunale comincia dal centro storico, quindi non solo per quanto riguarda Baia Flaminia, ma nuove regole anche per quanto riguarda un po' tutto l'assetto urbano, in modo particolare il centro storico. E poi in quest'altro articolo invece si parla di amianto. Amianto in un vecchio capannone, timori per il rischio dei tumori. Si tratta di Monte Ciccardo. A Monte Ciccardo ci sono verificati tre casi di leucemia che si pongono in relazione ad un capannone in cui ancora c'è l'amianto. I residenti hanno coinvolto l'Ona, già contattati Comune e Aste. I casi di leucemia a Monte Ciccardo sono saliti a tre, di cui due scoperti negli ultimi mesi. Ebbene, è difficilmente in questo ambito. Si tratta di coincidenze. I residenti non hanno dubbi. Il problema è l'amianto deteriorato che si trova in un edificio ad uso ex artigianale di via Marconi, cuore del piccolo centro abitato. Insomma, un edificio da bonificare prima che procuri altri guai. Il problema è che generalmente le fibre di amianto che si trovano nell'aria vadano molto, molto tempo prima di generare queste terribili malattie e probabilmente qualcuno ce l'ha già in essere. Questo veramente è molto grave. Speriamo che questo non accada. Un altro articolo riguarda Alessandro Moneti. Il disabile che ha espresso il desiderio di avere un trattore per continuare, pur con la sua disabilità, la conduzione del campo agricolo della famiglia. potrà guidarlo questo autunno un trattore da sogno grazie all'iniziativa intraprese dal deputato, dall'onorevole Carloni, che sappiamo è presidente della Commissione Agricoltura. Per la semina autunnale dei suoi ortaggi, Alessandro Moneti, 26 anni, potrà guidare il trattore da sogno e lavorare la terra insieme al papà Giuseppe nell'azienda agricola di famiglia. Vediamo anche la pagina di Urbino. Fusione con Urbino, un'idea buona, ma questo non è il momento giusto. Lo ha dichiarato il sindaco di Sasso Corvaro, Daniele Grossi, che rinvia la proposta di Gambini, il sindaco di Urbino. Ora arrivano i fondi per l'altro ITER. Ebbene, esiste un destino storico, dice l'articolista Veronica Angeletti sul Corriere Adriatico è un destino storico comune, ma per tante ragioni è un'idea ancora tutta da costruire. Insomma, ci vuole pazienza, occorre fare passare piano piano quest'idea anche ai residenti, al fine che poi quando si prendono le decisioni non insorgono gli uni e gli altri da una parte e dall'altra perché non ne vogliono sapere di seguire questa fusione e quindi occorre osservare i tempi opportuni. Questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Ed ora siamo in conclusione, ma prima voglio darvi un'idea di quello che scrive il resto del Carlino nella pagina riassuntiva. Per quanto riguarda Pesaro, abbiamo in primo piano l'aguato dei fanesi, ai rivali della Vigor, pugni e cinghiati. Ristoranti tutti esauriti per Pasqua, ci sono però tanti rincari. E c'è anche un pienone al Miralfiore per il baratto dei giocattoli. Una bella iniziativa che riguarda i bambini. A Dancona, sanità più soldi a chi combatte il Covid. Accordo tra regione e sindacati, 80 euro in più al mese. E poi voglio segnalarvi anche una notizia di cronaca che è stata rievocata in Tribunale. Operaio edile perde un braccio al lavoro, due le condanne. E questo per il momento è tutto. Vi do appuntamento a domani alle 7. Intanto vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.